5 minuti di silenzio per esprimere il nostro dissenso senza colore senza sostegno in questo modo protesteremo contro una situazione vergognosa vogliamo chiarezza e subito questo è il volantino divulgato prima della gara dagli ultras neroverdi alla fine ha portato fortuna prima vittoria del chieti meritata e voluta a tutti i costi contro una modesta re canatese con le riprese di settimio berardinelli vediamo insieme quel poco che si è visto nell'arco dei 90 minuti di gioco fischia lemma di barletta inizio slow per entrambe le formazioni macchinosa e prevedibile le giocate del chieti una squadra da rinvigorire soprattutto sotto il profilo psicologico il campionato del chieti inizia il ventunesimo quando pasquale campagna mette in rete l'uno a zero meritevole di un replay risponde bene la re canatese con vitone bussa la porta di franchi ma lui non apre prima del riposo c'è tempo per applaudire questo duetto bellocchi sparaccio termina il primo tempo con il chieti in vantaggio per uno a zero nella ripresa non è che cambi molto ma la cosa più importante è tenersi stretto il vantaggio acquisito al secondo minuto franchi e campagna balbettano sbuca la testa di rosa e poco giocata di classe cristallina al settimo minuto per sparaccio il trainer è pino giusto tanto per dare più consistenza al reparto offensivo al ventisettesimo inserisce prosia al posto di capitano continui la re canatese non accenna ad una minima reazione essendo poco incisiva il chieti umilmente e con spirito di sacrificio al trentacinquesimo sempre con il solito sparaccio accarezza il raddoppio ma va bene così fino a sette giorni fa era assediata dai dubbi schiacciata dalle pressioni ferita dalle critiche con la vittoria di oggi il chieti si ripropone con fiducia dinanzi al suo pubblico con la speranza che il tutto abbia una meritevole di continuità